Un comisano di 19 anni è stato arrestato alle prime ore di ieri dalla polizia a Comiso con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I fatti sono avvenuti sabato intorno a mezzanotte quando da Piazza delle Erbe è arrivata la segnalazione di un'aggressione. All'arrivo della volante della polizia tre ragazzi hanno raccontato di essere stati aggrediti da due giovani. Qualche minuto dopo la mezzanotte uno dei tre giovani era arrivato a bordo del suo scooter per incontrarsi con gli altri due amici ma era stato avvicinato da due individui che con fare minaccioso gli chiedevano di consegnare loro denaro e lo scooter. Al suo diniego i due cominciavano a picchiarlo ma il giovane riusciva a dirigersi verso i suoi due amici che accortisi di quanto stava avvenendo sono andati in suo aiuto ma sono stati allora volto aggrediti. Ad uno è stata strappata la collanina d'oro che l'aggressore ha poi perso e la vittima ha recuperato mentre ad un altro è stato sottratto il cellulare. A difesa dei tre ragazzi è intervenuto un cliente della pizzeria che si trova nella Piazza delle Erbe che finalmente è riuscito a mettere in fuga i due aggressori. Sulla base degli elementi acquisiti gli agenti sono riusciti ad identificare uno degli aggressori che è stato rintracciato intorno alle due di notte nella sua abitazione con addosso ancora gli abiti descritti dalle vittime. Si tratta di Luca Busacca che, riconosciuto da tutte e tre le vittime, è stato arrestato e condotto al carcere di Ragusa. Rimane al momento ignoto l'altro aggressore. Per uno dei giovani è stato necessario ricorrere al pronto soccorso. Per lui una prognosi di dieci giorni per una ferita al volto.